Allora, vado a vedere cosa c'è sul gruppo Facebook. Allora, vedo che c'è un allarme 3, anche se è indicato come errore 3, un allarme 9, un altro allarme, allarme 9, allarme 9, allarme 3, allarme 3, allarme 2, allarme 3, un altro allarme. Questo è un allarme 3, allarme 2, allarme 1, un altro questo non è un allarme, questo no, questo no, questo è un allarme 9, vabbè li abbiamo visti quasi tutti più o meno. Cioè, qual è il problema? Il problema è che spesso si presentano degli allarmi che bloccano il nostro laser. In questo video non vi parlo di tutti gli allarmi e nemmeno di tutti gli errori, perché sono veramente tanti. Vi rimando però a un articolo che ho fatto insieme a Roberto Cocchia, che stiamo collaborando insieme ormai da quasi un anno, da quando abbiamo iniziato il progetto della tastiera LBK, e Roberto ha un ottimo sito, ha fatto un ottimo sito, lo sta curando veramente molto bene, che parla a 360 gradi di laser. Stiamo facendo delle cose insieme, questa è una di quelle cose, abbiamo fatto insieme questo articolo, dove ci sono tutti gli errori e tutti gli allarmi che vi possono capitare. Sì, perché capitano. All'inizio si va nel panico, poi magari si comincia a scrivere in gruppi Facebook, si comincia a chiedere su un mucchio di gruppi Facebook, chi dà certe notizie, chi ne dà altre, eccetera, eccetera, e andiamo un po' in confusione. Con questo articolo, che è sul sito, e vi metto in descrizione il sito di Roberto, ci sono le spiegazioni di questi allarmi, di questi errori, con due tabelle semplici, semplici, con gli errori, non sono tutti, ma sono quelli più frequenti, avete visto che la maggior parte sono due, tre, nove, otto, a volte lo zero, a volte l'uno, dove c'è il codice dell'allarme, o il codice dell'errore, questa è la tabella degli allarmi, codice allarme, perché avviene l'allarme, e come si risolve l'allarme. Poi abbiamo quest'altra tabella, che è la tabella degli errori, codice errore, nella prima colonna, nella seconda, perché avviene l'errore, e il terzo, come si risolve. Molto, molto semplicemente, per cui non ho intenzione di durarla molto con questo video, perché vi rimando all'articolo sul sito di Roberto Cocchia, è l'articolo che abbiamo curato insieme, e ritrovate tutte le soluzioni, che sono le soluzioni migliori per sistemare le cose. Se non ci riuscite, vabbè, scrivete sul gruppo Facebook, una mano ve la diamo sicuramente. Allora, non voglio andare avanti, come vi dicevo prima, e durarvela troppo, perché sennò diventerebbe un pippone indescrivibile. Andatevela a leggere, per leggere quell'articolo ci vogliono due minuti, tre, non di più. Vi salvate nei preferiti quel sito, vi salvate nei preferiti quell'articolo, lo mettete anche nell'uomo del cellulare, eccetera, eccetera, tanto sapete come fare, non serve che ve lo insegno io. Se vi è piaciuto questo argomento, se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuto questo articolo, un like, iscrivetevi al mio canale, registratevi anche sul sito di Roberto Cocchia e salvatevi fra i preferiti le tabelle, fatevene una copia, fate in modo che se succede qualcosa non andate in panico, sapete subito come fare. Vi lascio e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!